Si salve sono BeWolfers e in questo shot speciale parleremo di Dead Cells Return to Castlevania. Speciale perché non sono solito presentarvi DLC ma da fan del titolo Konami ci tenevo a mostrarvelo. Ovviamente il gioco base rimane Dead Cells e dal fine video vi allego la mini recensione fatta nell'ormai lontano 2017. In questo crossover avremo accesso a 4 nuovi biomi ispirati a Castlevania. Potremmo sbloccare 14 oggetti e 20 costumi a tema oltre che combattere 9 nuovi nemici ed affrontare 4 boss tra cui ovviamente Dracula. Stupenda la sensazione che si trova nel rivivere certe ambientazioni e soprattutto di ascoltare certi temi mentre di negativo ha segnalato che se non siete fan tutto ciò vi sarà indifferente se fu presenti comunque l'elevata qualità offerta dal titolo. Chi ha giocato al Symphony of the Night non può perdersi Return to Castlevania che invece consigli sconto agli amanti di Dead Cells. Grazie alla prossima, ciao! Ciao!